Mi chiamo Jean-Claude. Sono stato arrestato il 2 marzo 2011 e condannato a tre anni di carcere a causa del mio orientamento sessuale. Il mio arresto durò sette giorni prima che io fossi accusato di omosessualità e induzione all'omosessualità secondo il codice perale del mio paese. A causa di ciò la mia famiglia mi ha abbandonato. Sono stato ricoverato per Mernia ma ho dovuto lasciare l'ospedale perché non avevo i soldi per potermi pagare le cure. Vi racconto cosa accade nel mio paese, in Cameroon. Sono Jean-Claude Roger Bader e sono morto a 34 anni. Grazie.